Castruccio Castracani, un condottiero ghibellino e un uomo di stato. Castruccio Castracani degli Antelminelli nacque a Lucca nel 1281, da una famiglia ghibellina di antica nobiltà. La sua vita fu segnata da una serie di eventi avventurosi e drammatici, che lo portarono a diventare uno dei più potenti condottieri e uomini di stato del Trecento. Nel 1300, la fazione dei Neri, che controllava Lucca, lo cacciò dalla città. Castruccio si rifugiò a Verona, dove iniziò la sua carriera militare. Nel 1315, combatte nella battaglia di Montecatini, in cui le forze ghibelline, guidate dall'imperatore Ludovico il Bavaro, sconfissero la Lega Guelfa guidata da Firenze. Castruccio si distinse per il suo coraggio e la sua abilità strategica, e fu nominato capitano generale dell'esercito imperiale. Nel 1316, Castruccio tornò a Lucca e prese il potere con la forza. Iniziò un periodo di governo autoritario, ma anche di grande prosperità per la città. Castruccio si dedicò a rafforzare le mura, a migliorare le infrastrutture e a promuovere l'economia. Lucca divenne una delle città più importanti della Toscana. Nel 1320, Castruccio fu nominato duca di Lucca da Ludovico il Bavaro. Il suo dominio si estese poi a Carrara, Lerici, Pisa, Pistoia, Pontremoli e Sarzana. Castruccio divenne uno dei signori più potenti d'Italia, e il suo nome era temuto e rispettato da tutti. Castruccio era un uomo di grande intelligenza e cultura. Era un abile politico e stratega, e un abile comandante militare. Era anche un uomo di grande carisma, e riusciva a conquistare l'affetto e la fedeltà dei suoi sudditi. Tuttavia, Castruccio era anche un uomo ambizioso e spietato. Non esitava a usare la forza per raggiungere i suoi obiettivi, e non aveva scrupoli a tradire i suoi alleati. Questa sua natura lo portò a scontrarsi con Firenze, che era la sua principale rivale. Nel 1325, Castruccio conquistò Pistoia, ma fu sconfitto dai fiorentini nella battaglia di Alto Pascio. Nel 1327, fu scomunicato dal papa Giovanni XXII, che lo accusava di eresia e di aver violato i diritti della Chiesa. Castruccio morì a Lucca nel 1328, mentre si preparava una nuova guerra contro Firenze. La sua morte segnò la fine di un periodo di grande splendore per Lucca. Il personaggio di Castruccio Castracani. Castruccio Castracani è una figura complessa e contraddittoria. Era un uomo di grande talento e ambizione, ma anche di grande spietatezza e ambizione. La sua vita è stata segnata da un'incessante lotta per il potere, che lo ha portato a raggiungere grandi successi, ma anche a un tragico epilogo. Il personaggio di Castruccio Castracani ha affascinato gli storici e i letterati di ogni epoca. È stato protagonista di numerose opere letterarie, tra cui La vita di Castruccio Castracani da Lucca di Niccolo Machiavelli. Machiavelli vedeva in Castruccio un esempio di uomo politico ideale. Un uomo che era riuscito a conquistare il potere attraverso la forza e l'astuzia. Tuttavia, Machiavelli era anche consapevole dei limiti di Castruccio, e del fatto che la sua ambizione lo aveva portato alla rovina. Il personaggio di Castruccio Castracani è ancora oggi attuale, e continua ad affascinare e a stimolare la riflessione. È un personaggio che rappresenta la lotta per il potere, la complessità della natura umana e la fragilità del successo.